Ragazzi belli, come vi sta andando questa giornata di fan da calcio? Che miracolo vi serve oggi? Mentre io mando la sigla, raccontatemelo qua sotto nei commenti Oltre a lasciare un bel like e di iscrivervi se non siete ancora iscritti Mando appunto la mini sigla E poi vi porto qualche consiglio interessante per l'asta di riparazione Ciao a tutti ragazzi, bentornati da Carmi Speciale Ebbene sì, oggi andremo a trattare qualche nome interessante per l'asta di riparazione Alcuni me li avete chiesti, tantissimi su Instagram, ovunque ragazzi Anzi seguitemi anche sui social perché lì vi avviserò di molte molte cose Ad esempio di delle dirette di questa settimana Probabilmente ne faremo una domani sera Prima di iniziare però vi ricordo di scaricare dal link che trovate in descrizione OneFootball Ma se state utilizzando ad esempio per guardare questo video un pc o un altro dispositivo Potrete scannerizzare il code per scaricarlo immediatamente nel vostro dispositivo mobile Ok, quindi approfittatene Vi aggiornerà praticamente su tutto il mondo del calcio Soprattutto sulla serie A, calciomercato, tutte le varie notizie Link in descrizione appunto utilizzate il code Detto ciò, vediamo quali nomi vi ho preparato Uno è invecchiato malissimo nel scorso episodio Vi ho parlato un po' di alcuni giocatori appena arrivati in serie A E vi ho parlato un po' di Olivera Neanche il tempo di metterlo in campo già gli hanno fatto calciare il rigore Che tra l'altro, per carità, avevamo questa sensazione Molti di voi infatti già anche me l'avevano scritto, per carità Però non capisco come mai Veretout che ne ha sbagliati 2 su 15 Cioè ne ha messi comunque 13 alla Roma Io così, sbolognato Peccato, peccato E tutti i fan di allenatori giustamente di Veretout Adesso già non è che portasse più tanti gol Mo' gli togli pure i rigori Bene, bene Detto ciò andiamo a vedere quali nomi vi ho preparato per questo episodio Allora, allora, allora Ci saranno due new entry ragazzi E tre scommesse Quindi due giocatori nuovi E tre giocatori invece che già conosciamo Ma che potrebbero essere interessanti Da andare a prendere all'asta di riparazione Vediamo di chi si tratta Va bene Partiamo con Yeboa del Genoa Dovrebbe giocare oggi anche contro la Fiorentina Quindi poi lo osserveremo Potrebbe invecchiare male anche questo video Chi il sa Il giocatore è un giocatore con tanta agilità e senso del gol Mi ricorda un po' Sempre in ottica Genoa Un po' qua me Per certi versi Ma forse con più senso del gol Anche se Dobbiamo ancora vederlo Nel campionato italiano Che è più complicato di quello Diciamo dove ha giocato finora E attenzione Anche al suo Alla sua tipologia Ecco di rendimento Nel senso che io mi aspetto da lui Una buona media Anche se non dovesse fare Tanti gol Delle buone valutazioni Ok? Perché un giocatore che comunque ha un buon dribbling Ha tanta personalità Quindi potrebbe effettivamente Conquistarsi Buone valutazioni dai pagellisti Quindi mi aspetto quindi bonus sporadici Ma una buona media E un suo vantaggio ragazzi È anche il fatto di essere sconosciuto Ai più Cioè a parte i talent scout Cioè quei fantallenatori Che effettivamente Quando arriva un giocatore Se lo vanno a spulciare Si interessano Eccetera eccetera Molti su di lui Non ci metteranno chissà quanti crediti Quindi potreste Facilmente Prenderlo La riparazione Rispetto ad altri nomi Un po' più conosciuti Ok? Quindi occhio Ora io ve lo consiglio Con gli abbinamenti calendari Questo significa Che andate a studiare Il vostro attacco Un po' Come vi ho già spiegato Nei vari video precedenti Recuperate tutti i video Sulla strada di riparazione Vi andate a vedere Se il genuo È ben abbinato Con gli altri vostri attaccanti E allora Effettivamente In quel momento A quel punto Potreste acquistarlo Come scommessa Appetibilità media Perché non credo Che magari vi svolterà Il fantagalcio Potrebbe non avere Ecco il rendimento All'assimi dell'anno scorso Per farvi capire Però Qualche buon rendimento Me lo aspetto Al mantra Poco appetibile Oggettivamente Come pc Non credo Vi sarà Granché utile A meno che non fate Un mantra 20 squadre Ma Non credo sia Neanche fattibile Andiamo Avanti Con Nani Altra new entry Giocatore Che già ha fatto Una Me ne sono dimenticato Me ne sono dimenticato L'immagine C'è ancora Mantra Niles Scusate per questo Piccolo Bug Che mi sono dimenticato A cambiare l'immagine Di Nani C'è ancora quella Di Mantra Niles Dello scorso episodio Comunque Molta tecnica Di esperienza Per lui L'ha già dimostrato Nella prima Sua Apparizione Al Venezia Facendo subito Un assist Da subentrato Ora Per carità ragazzi Il giocatore è forte Come detto Molta esperienza E potrebbe avere Anche una Media voto Molto buona Quindi prendere Ottime valutazioni Però Se avete un reparto Poco solido Cioè con Diversi giocatori In ballottaggio Andare a prendere Un giocatore Con un'età Elevata E che quindi potrebbe Infortunarsi Qualche volta E che non è detto Che sia sempre Titolare Spesso sarà Subentrato Insomma Vi potrebbe creare Qualche problema Soprattutto a livello Di schierabilità Quindi state un po' Attenti Dipende come è composto Il vostro attacco Potete decidere Se prenderlo Come scommessina Oppure Se andare su altro Per solidificare Il vostro reparto Chiaro? Quindi attenzione Quindi appetibilità Anche qui media O medio basso Dipende appunto Dal vostro Ecco reparto E ruolo mantra A E sempre meno appetibile Rispetto al classic Però se siete Un mantra Anche qui Numeroso Rispetto a Ebo A Diciamo che Nani è comunque Più interessante Perché comunque Ve lo potrete utilizzare In più moduli Ok Andiamo avanti Spero che le altre immagini Mi sia ricordato A metterle Ecco quella di Voivoda Ragazzi Come scommessa Sta facendo bene Juric gli sta dando fiducia È un giocatore Che fa ottimi cross E Ha una buona corsa Quindi una Buona camber Ragazzi Qualche bonus E una buona media È ciò che mi aspetto Da lui Da qui a fine Anno Anche perché Quello che ha fatto Ultimamente Cioè ha preso spesso La sufficienza Ed è una buona cosa Per chi ad esempio Utilizza il modificatore Di difesa Ma anche dei buoni assist Perché comunque Juric fa spingere I suoi esterni Sia Singo Che appunto Vevoda Certo avrà un ballottaggio Probabilmente Con Ansaldi Ha scalzato Completamente O'Laina Quindi Vediamo se appunto Quando Gli altri esterni Saranno in piena forma Sarà lui Effettivamente Il titolare Per il momento Sta Credo Rendendo soddisfatto Juric Che penso Gli darà ancora fiducia Quindi Attenzione Potrebbe essere Un buon acquisto Ma se avete Già un reparto Abbastanza Solido Ok Diciamo che Tra gli esterni Del Toro Quello veramente Sicuro del posto È Singo Che comunque È devastante Ma È già preso Non ve lo daranno Negli scambi E così via Magari Voivoda Può essere quella Scommessina In un reparto Come detto Già abbastanza Solido Quindi Appendibilità Medio bassa Ruolo mantra Ancora meno appellibile Perché È una E Quindi Al mantra Solo in alcuni casi Dipende Che modulo utilizzate Potrebbe essere interessante Ma se utilizzate Ad esempio La difesa 4 Non utilizzate l'E Ad esempio Non vi serve Quindi Dipende qui Ovviamente Dal modulo Che usate Poi Andiamo Sull'ultima Scommessa di oggi Che è Zurkovski Ma Sono dimenticato Pure l'immagine Di Zurkovski Mannaggia me Scusate 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 davvero Però Vabbè Facciamoci passare Questi fail Non mi fate Registrare Tutto il video Di nuovo Vabbè Prego Si è abbronzato Un pochettino Eh Zurkovski Devo dire Si è abbronzato Un pochettino Facciamo così Ottimo tiro Ed inserimenti Ai 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 Ottimo tiro Ed inserimenti Per Zurkovski Purtroppo Lui si è già messo In mostra Abbastanza In questo Girone D'andata Ve ne avevo Però parlato Già in estate L'unico dubbio Che avevamo In estate Era sulla Titolarità Perché Appunto Non sapevamo Quanti minuti Potesse avere Ecco Durante Questo campionato Ormai si è preso Il posto Parliamoci chiaro Certa volta Si Non parte Titolare A volte Però comunque Subentra sempre Il voto Lo prende Praticamente Quindi Sfruttiamolo Ragazzi Possiamo Prenderlo Nel caso Andiamo a cercare Qualche bonus Al centrocampo Quindi Potrebbe Portarvi qualche bonus Frequente L'Empoli È una squadra Che attacca molto In maniera Anche organizzata Lui Come detto Un giocatore Che si inserisce Che tira Anche da fuori È un buon piede Quindi Secondo me Può essere Un buon colpo Per il vostro Centrocampo E dipende Che tipo Di fan D'allenatori Avete nella vostra Lega Potrebbe essere Un giocatore Che pagate Anche poco Che magari Non ci sarà Una superasta Per lui Dipende Anche perché La sua quotazione Purtroppo Si è alzata molto Quindi Qualche Rilancio Potrebbe Averlo Su di lui Al mantra È una C Quindi Anche qui Singolo ruolo Meno appetibile Però Per chi utilizza Ad esempio Un centrocampo A3 Quindi col mediano L2C Accanto A volte Potreste Trovargli Un posto Titolare Quindi Potreste Effettivamente Utilizzarlo Anche lì Va bene Detto ciò Ragazzi Scusate Veramente Per il discorso Immagini Qui finalmente Su Chiriacopulos L'ho inserita Altra scommestina Ecco Pensavo fosse L'ultima Quella Precedente Vabbè Comunque Personalità E buon mancino Per Chiriacopulos Tanti assist E Qualche Gol Mi aspetto Da lui In questo finale Purtroppo Mi si è bruciata Un po' Questa scommessa Visto che ha fatto Due assist Nell'ultimo turno Proprio ieri Però Cosa succede Che O meglio Se ci avete fatto caso Nelle ultime settimane Anche Ve l'avevo fortemente Consigliato Nei consigli di giornata Per chi l'aveva già preso Perché mi ero accorto Del suo posizionamento Offensivo Del fatto che potesse Portare bonus Spero Mi abbiate dato retta Questa giornata L'avevo messo Nelle scommessine Insieme a De Frel Lui direi assist E De Frel In gol Quindi Puntiamoci ragazzi Se avete un reparto Ok Ok Cioè Abbassare la testa E prova il tiro Talvolta appunto Vi porterà magari Qualche assist Quindi Ci farei un peserino Ragazzi Ok Ovviamente State attenti In base appunto Al vostro reparto Se è abbastanza solito Quindi avete Quando parlo di solidità Chiaramente parlo Di titolarità Degli altri Giocatori In quel reparto E l'appetibilità Ovviamente Medio passo Non è che stiamo Prendendo il nuovo Cosens Però Nel mantra Devo dire Che ha la stessa Appetibilità Se non maggiore Perché Perché Essendo DSE Non ci sono tanti Terzini e sinistri Fortissimi Nel mantra Quest'anno E lui potrebbe essere Quel nome Che tu piazzi lì Se ti gioca Ti può anche far bene Quindi attenzione A Chiricopoulos Va bene Dai Detto ciò ragazzi Io vi ringrazio Per aver visto questo video Spero siate clementi E metterete lo stesso like Nonostante i problemi grafici Ragazzi Mamma mia Oggi Mi sono distratto Perdonatemi Perdonatemi Però Dai ho compensato Con qualche nome interessante Che magari i vostri avversari Non punteranno Spero Vi sia piaciuto questo video Come detto Vi ricordo di seguirmi Sui social Trovate tutti Tutti i link In descrizione Vi ricordo di scaricare OneFootball Dal link Che trovate in descrizione E ringrazio tutti i tippers Cioè tutti coloro Che mi stanno supportando Sulla piattaforma tipi Ok Grazie mille davvero Per credere in questo progetto Detto ciò Io vi auguro Una buona settimana Un buon finale Anche di giornata Buona fortuna Quindi Che dire Ci vediamo domani Con un nuovo video E poi anche con qualche live In questa settimana Dai Vi aspetto Perché analizzerò Un po' le vostre rose Scambio al fondacalcio E non solo Ciao ragazzi Un abbraccio Ciao